Per cominciare, terza amichevole per la nostra selezione Under 15. Una spostata a sinistra, altra possibilità, con il traversone e la deviazione ravvicinata. Parte di Pisati, palla che rimane in campo, raccolta al limite, poi conclusione da parte di Elimo Gale. Scarica, centralmente su Preissnar, se ne va via bene il capitano, poi carica al destro. Questa fiondata lunga, la ricerca di Elimo Gale, che passa Elimo Gale! Calcia addosso al portiere avversario, poi Pisati. Anzcu, Kroski arriva in qualche modo a cercare Kukarski, prolunga Diallo, si bala. Poi la partenza, da parte di Elimo Gale, che allarga! Linchevitz, palla che passa, sotto la barriera. Spazio per l'Italia sulla destra, con Fustini che prende velocità, vuole anche andare sul fondo. Metta a sedere un avversario, tocco all'indietro, Fugazzola! E finalmente l'Italia passa! Qui non riesce nessun modo, Cracovia, anche ad accorciare su Fustini. Polonia, che si ributa subito in avanti, attenzione allo spazio, attenzione all'opportunità del Gale, ed è pareggio immediato! 40 secondi, ha resistito il vantaggio azzurro. Qui si apre una voragine, non riesce Rocchetti ad accorciare con il tempismo necessario. Ottimo recupero da parte di Fustini, lo scambio con Giammattei, Fustini! Questa volta si mette in proprio, può cercare di sorprendere anche Bocniaz. Fischia l'arbitro, vai Limogale! Smanaccia il portiere polacco, non è finita, a caccia del pallone gli azzurri, stocco. Per Giammattei, possibilità di andare a convergere e scaricare con Bruno! Parata mostruosa! Viene fermato da Suba, di Suba entra Bruno, ma di tempo non ce n'è più, termina in parità, termina 1-1 Novarello.